MENIA TV MUSIC TELEVISION Vabbè, ciao a tutti VJ Senny J, Salvo Galvagno Vi aspettano come al solito per un'estate di divertimento Gireremo le location più belle Che poi quest'anno ci saranno dirette dalla Spagna Sì, perché dovete sapere che Senny J Oramai in tour in Spagna E ovviamente non mancheranno i nostri Non diciamo nulla No, quindi diciamo una cosa Che il nostro Guido d'Aquino è bello pronto Per farvi vedere le location più belle Insieme a Salvo Galvagno Senny J E insieme a voi, come al solito, ci inchiniamo Inghiniamoci Amici, Senny J e Salvo Galvagno MENIA TV MUSIC TELEVISION Sulla vostra televisione preferita Aspettateci, stiamo per arrivare Arriveremo, ciao Dopo il grande successo Riturnano le nuove puntate di MENIA TV Con Salvo Galvagno e Senny J Regia di Guido d'Aquino Prossimamente su TVA Televideo Adrano Ciao a tutti amici di MENIA TV MUSIC TELEVISION Io sono Neck, un saluto e un abbraccio a tutti Ciao Ciao a tutti gli amici di MENIA TV STREGATI DALA MUSICA Da Max Pezzari MENIA TV STREGATI DALA MUSICA Ciao da Luca Di Risi MENIA TV STREGATI DALA MUSICA Ciao da Paolo Menegutti DA Max Pezzari Ciao da puoi Capo la prigio di MENIIA TV STREGATI DALA MUSICA STREGATI DALA MUSICA